Ciao a tutti, oggi è il 18 settembre 2018 e siamo sempre su Ciper TV e siamo sempre a Colossi Belizio. La classe di oggi inizierà con un riscaldamento per i deadlist, quindi inizieremo a fare il movimento del deadlist prima con il PVC e successivamente aggiungeremo il bilanciere al quale aggiungeremo poi ancora carico e ancora carico fino ad essere in grado di fare dei deadlist con un carico significativo. Dopodiché una volta scaldato questo movimento faremo dei Romanian deadlift nella versione Romanian quindi facendo un 3x8, a seguire un 3x8 di spinte con i fianchi sempre con il bilanciere piazzato sui fianchi e questo per quanto riguarda la parte di skills e di forza è tutto. Passiamo al WOD, oggi abbiamo un Ciper molto interessante composto da 400 metri di corsa, 40 double unders, 40 deadlifts utilizzando il peso con il quale abbiamo fatto i Romanian di prima oppure seguendo le indicazioni riportate qui nella grafica, poi avremo di nuovo 400 metri di corsa, di nuovo 40 double unders, poi 40 sumo deadlift high pull, ancora 400 metri di corsa, ancora 40 double unders e concluderemo con 40 kettlebell swing. Dopodiché doccia tutti a casa e ci vediamo domani.